A Ripa Limosani tre giornate dedicate alla promozione culturale e sociale organizzate in occasione dell'edizione 2021 di Simposio Ripa. All'insegna del benessere, del buono e del bello, la nostra decima edizione volevamo festeggiarla alla grande. Abbiamo tolto quindi i simposi, queste tavole rotonde informali e abbiamo fatto un vero e proprio happening. Volevamo festeggiare, questo per noi è un punto di partenza anche se è la decima edizione, incentrata sulle potenzialità del territorio, quindi tutela, valorizzazione e promozione del territorio e del nostro patrimonio materiale ed immateriale. Tra gli eventi proposti lo spettacolo di Andrea Ortis, di Come Dante, tenuto nel convento San Pier Celestino insieme al cast originale della Divina Commedia Opera Musical. Ospite del simposio, anche Dante Gentile Lorusso, con il suo ultimo libro in uscita dal titolo Attraversamenti, pittori e scultori in Molise dalla fine del Cinquecento agli anni Sessanta del Novecento. Si tratta di una lunga ricerca in cui ho voluto capire se in Molise ci fossero stati appunto artisti, pittori e scultori. E così nel corso degli anni ho indagato e ho trovato la bellezza di 112 tra pittori e scultori e quindi questo diventerà un vero e proprio catalogo sugli artisti molisani. Questo servirà, spero, da base per costruire quello che poi in fondo manca in Molise, in effetti. Siamo l'unica regione a non avere questo contenitore, cioè la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea. Potrebbe diventare un luogo dove raccontare gli artisti. Perché? Perché anche c'è la possibilità di avere tante opere di artisti, di discendenti, di artisti che si sono messi a disposizione volendo anche donare qualche opera. Nel Palazzo Marchesale sono state presentate la piattaforma Molise d'Agustare e la pagina web dell'associazione Simposio Ripa. Dopo tre anni di vita, perché noi nel marzo del 2018 siamo nati come associazione, anche se operiamo sul territorio con l'evento Simposio Ripa, dal 2012, l'associazione è formata per la maggior parte da giovani e giovanissimi e per la maggior parte ripesi e loro sono gli organizzatori del sito, lo stanno pensando, lo stanno studiando. Con i contenuti inseriti, finalmente oggi possiamo presentarlo e per noi è un orgoglio perché lo presenteranno loro. Perché sì, Cati e Gianni sono gli ideatori di Simposio, però se Simposio Ripa esiste è perché c'è un bel gruppo di ragazzi che ci segue e che ha veramente tutte le capacità per farlo.